Allora, è un discorso Un po' complicatino Nel mio caso Visto che C'è bisogno Di una risposta molto completa Miskin È una parte latente Che all'interno di Lorenzo C'è sempre stata Con Rap gli ho soltanto dato un nome Ma è sempre esistita È la parte opposta Quella che Si contrappone alla fragilità di Lorenzo Quella che Nei momenti di dolore, tristezza E sofferenza Reagisce interiormente Dalla scossa Dice Adesso è il momento di rialzarsi Rialzare la testa Tornare a combattere La parte che Racchiude la rabbia Che altrimenti non saprei Né sfogare Né tantomeno incanalare La parte che mi consente Di metterla all'interno Di un testo O la parte che In tanti casi Anche in modo imprevedibile La fa proprio Fuoriuscire È un opposto Che È sempre esistito Ma i primi anni di vita Era piuttosto Latente E dormiente Con il passare degli anni E con il verificarsi Di eventi negativi Ha sempre più preso forma Si è sempre più radicata All'interno di me È appunto La parte che Racchiude Rabbia Emozioni negative Le raccoglie E mi consente Di sputarle fuori Musicalmente o meno Mi consente Semplicemente Di spellerle Come hai conosciuto Raidon Raidon L'ho conosciuto Un anno fa Più o meno Tramite Un mio caro amico Andrea Pau E che L'impiccato O hangman Che conoscevo Al tempo Da 3-4 mesi Perché a un certo punto Dopo il primo Annetto di rap Passato A scrivere Su strumentali Totalmente edite Da youtube O meno Decisi Di pensare A trovare magari Un beatmaker Per riuscire A crescere Anche sotto Quell'aspetto E Per provare A pubblicare A creare Qualcosa Che fosse inedito Quindi lui Mi disse Guarda C'è questo mio amico Se vuoi te lo presento Oltre che a fare Il rapper Da un po' di tempo Si diletta anche Nel beatmaking E gli potrai Parlare di te Se le tue cose Gli piacessero Potreste collaborare Quindi Scrisi a Raidon E devo dire Che lui Credete subito Nelle mie potenzialità E nelle mie possibilità E quindi Cominciamo a pensare A qualche pezzo Da fare Su sua produzione E In due Tre mesi A un progetto Che è appunto Il mio primo IP Ufficiale Che è Goccia Goccia Che Chi mi segue Conosce Lo devo ringraziare Moltissimo Perché oltre ad essere Un amico Molto affidabile E sincero Ad aver creduto In me dal primo momento Mi ha anche dato L'opportunità Di farmi conoscere Da una fetta Di pubblico Un po' più grande Per quanto io Non abbia un pubblico Molto vasto Perché dopo Goccia a goccia Riuscì a farmi conoscere Da molto più persone Di Quello che Ero conosciuto Prima Diciamo Quando hai deciso Di fare rap Allora Questa è un'altra risposta Un po' complessa Nel senso che La mia idea Di fare rap Iniziale La ebbi A 16 anni Perché Era un periodo Molto complicato Della mia vita Nel quale Non c'era niente di meglio Che cercare di estragnarsi Dal mondo Attraverso un paio Di cuffie Quindi Avevo il rap Come valvola Come valvola di sfogo Dal punto di vista Dell'ascolto Dopo Un anno Due Passati in questo modo Cominciai a pensare Di fare qualcosa di mio Di scrivere Dei pezzi O almeno provarci E avvicinarmi In qualche modo Al rap In prima persona Avvenne però Che Essendo un periodo Molto strano E complicato Non avevo Probabilmente La testa giusta Per affrontare Una cosa simile E quello che scrivevo Non mi convinceva E decisi Di abbandonare L'idea Dopo Due o tre settimane Le strade Sembravano Proprio separarsi Infatti Nel frattempo Avevo conosciuto Altre persone Avevo Mi ero avvicinato Ad altri tipi Di musica Finchè Il gennaio Del 2014 Conobi Tramite un amico Una persona Che mi stupì Al punto tale Da farmi tornare In una volta sola Tutta la passione Che avevo Un po' Un po' messo da parte Per questo genere Si tratta Di mio fratello Riga Akaia In mani d'inchiostro Che colgo L'occasione Per salutare E abbracciare Virtualmente Ti vedo brother Che grazie Al suo talento Perché lui Rappava già E anche Alla sua grande Passione Riuscì a farmi Avere sempre Più Interesse E Passione Di riflesso Per questo genere Non lo decisi Subito Ma Verso Primavera Estate Decisi Di cominciare A provare A fare rap Per gioco Poi Mi ci applicai Seriamente Nell'autunno Tra ottobre E novembre La differenza Rispetto Alla prima volta In cui provai Fu che le cose Che scrivevo In quei momenti Mi convincevano molto Quindi Nonostante Ci fosse ovviamente Da migliorare La parte tecnica Perché avevo Cominciato tardi Decisi Di coltivare Questo mio sogno Questa mia passione E di Portarmela avanti E quindi Eccomi qui Sono più o meno Due anni Che faccio rap E sono soddisfatto Dei risultati E miglioramenti Ottenuti Raggiunti Quali sono Le tue influenze Allora Ho influenze Tra le più disparate Perché ho cominciato Ad ascoltare musica Con il rock D'Edit Fiba Ancora nella pancia Della mamma Infatti Il primo genere Che io ho ascoltato Non era il rap Bensì rock metal Nel senso che Prima i DT Fiba Poi i Deep Purple Poi i Led Zeppelin E anche i Pink Floyd Quindi Inizialmente il rap Non faceva proprio parte Della Mia musica Come ascoltatore Poi avvenne che Al primo anno Di superiori Nel convinto Nel convinto Del mio istituto Conobbi una persona Che lavorava lì Come assistente Che si chiama Marco Maestro di vita Per me Che Mi fece avvicinare Il rap Attraverso i testi Di Marrakesh Quindi Cominciai ad ascoltare Marrakesh E poi Mano a mano Mi avvicinai Anche ad altri tipi di rapper Ci furono i Dogo Quando ancora mi piacevano Come Marrakesh Ci furono i Snarkos E poi Mi avvicinai A un gruppo Che In zona Se non era niente Di pop e pop Non erano molto noti Al tempo Però Un certo gruppo Che si chiamava Colle del Fomento E lì Con il loro album Anima e Ghiaccio Cominciai proprio Ad avere un'infarinatura Anche tipicamente Old school Old school Di quello che è il rap Poi Ho ascoltato Vari tipi di musica C'è stato Come ho detto prima Quel momento in cui Il rap L'ho un po' lasciato da parte E poi Ho iniziato l'ascolto Con Salmo Che quando Uscì nel 2011 2012 Devo dire che Mi colpì molto Anche se adesso Non mi piace Poi Qualcosa della macete I progetti Più validi Fino Ad avvicinarmi Attraverso I passaparola Di tanti amici Rapper e non Ai Gruppi Migliori E più Stimabili Dell'underground Adesso La mia influenza Prevalente Sono i 16 bar In particolare John Prinskin Che Ascolto Giorno e notte Piuttosto Che lasciando I 16 bar Magari Murubu Tour Ancora Qualcosa di Chiodo Qualcosa di Moder Prevalentemente Il tipo di rap Che ascolto Si è spostato Totalmente L'underground Sia perché Analizzo le cose Con più Obiettività E oggettività E in un altro modo Rispetto a quando Avevo 16 17 anni Che credo sia normale Sia perché Tutta una serie Di artisti Che stimavo Passando al mainstream Mi hanno abbastanza Dell'uso E quindi Sono cambiati E di conseguenza Non destano più Il mio interesse Nel tuo rap Si sente Un'influenza Old school Ciò nonostante Suoni moderno Come ti collochi Nella scena Allora Il fatto che Io suoni moderno Oddio Non so se è proprio Modernissimo Però Magari Non old school Deriva dal fatto Che ci sono sonorità Piuttosto moderne Quali la dubstep E certi tipi di trap Che A livello di Esclusiva sonorità Non mi dispiacciono Anzi La dubstep Mi piace La trap C'è qualcosa Che comunque Non mi dispiace Ergo Io cerco sempre Di avere Dei concetti Importanti In quello che scrivo In quello che comunico E questo forse È il tipo di influenza All'old school Infatti All'interno Dell'old school Tanti Per via Del peso Dei testi Riconoscono Un po' Caos in me Mi è stato detto A volte Probabilmente Il peso Dei testi Ha un approccio Più old school Dal punto di vista Del fatto Che la maggior parte Dei rapper Old school Danno Più peso Al testo Rispetto a quelli New Poi per le sonorità E anche per il modo Di rappare Cerco Di crearmi Uno stile mio Prendendo spunto Dalle varie Influenze Appunto E E inoltre Cerco sempre Di sperimentare Perché i suoni In sé Ce ne sono pochi Che non mi vadano A pelle Ce ne sono alcuni Però In genere Ci sono anche Tanti tipi di suoni Che mi piacciono E quindi cerco sempre Di avere Il mio concetto Da trasmettere Che è la cosa Più importante Però Svario Sperimentando Testi E prove Su vari tipi Di sonorità Ho provato La dubstep Alcuni tipi Di trap Il reg Piuttosto Che molti altri tipi Di suoni Come il rock E il metal Per cui Sono appassionato Ancora prima Del rap Poi ovviamente Anche l'old school E anche Altri tipi Di sonorità Diciamo Che mi piace Molto sperimentare E non mi fermo Mai Al guardare L'essere Un purista Come la soluzione Cioè Anche un purista A livello di sound Nel senso Che non mi metterò mai Per quanto Possa avere stima Per quegli artisti A fare Solamente rap Su beats Old school Dei 90 Sia perché Non sono la mia passione Sia perché Lo trovo un limite Nel senso Che un amico Mi ha detto Che io Su Su beats Di stile old school Mixati Con un po' Di rock A suo parere Rendo in particolare In particolare Modo Particolarmente bene Però lo vedo Un limite Mettersi A rappare Solo ed esclusivamente Su un suono Cerco di Poter essere in grado Di fare un po' Tutto Sempre Non perdendo Il fulcro Che è Per me Il trasmettere Il comunicare E avere dei concetti Importanti Perché essere hip hop Al giorno d'oggi Allora Qui risponderò In un modo Totalmente diverso Dagli altri Perché Ci sono In questo periodo Un po' Di confusioni A mio parere Nel senso che Io conosco persone Che suono hip hop Che però Come dire L'essere hip hop Per loro è un po' Un limite Nel senso che È un bel esempio Di chiusura mentale E poi Nel momento in cui Sei hip hop Però Dici sempre Le stesse cose E ok Hai un messaggio Ma è Abbastanza Trito e ritrito Perché Perché Lo trattano Più o meno Tutti Ed inoltre Ti fermi a quel messaggio Lì Avendo sempre Lo stesso argomento Di cui parlare Anche se sei hip hop Secondo me Non è la soluzione Per fare musica Al meglio Nel senso che Tecnicamente Puoi essere bravissimo Uno dei migliori Però Quello che conta È quello che riesci A trasmettere Scrivendo Ovviamente ci vuole Anche la parte tecnica Perché altrimenti Uno Non va da nessuna parte O comunque Non riesce neanche A farsi ascoltare Però se Se uno Un rapper qualunque È molto monotematico Nel senso che La sua tematica È sempre la stessa Cioè Quella Tipica Del rap Degli anni 90 Oppure Caso ancora peggiori Un rapper Si vanta O ostenta Ad essere hip hop Perché Rap Su Beat Soldo School Come persone Che io conosco Di nome Non di persona Che ho sentito Dalle mie parti Però Alla fine Nei contenuti Non dice nulla O dice una marea Di stronzate Ha poco peso L'essere hip hop Perché L'essere hip hop Ha gran valore Nel momento in cui Dai un peso Ai testi E cerchi Di variare Gli argomenti In modo tale Da esporre Più tematiche Nel momento in cui Hai poche tematiche Al tuo arco Poche frecce Al tuo arco E nel momento in cui Tra l'altro Che è ancora peggio Ripeto Approfitti Approfitti del fatto Di essere Old school Perché Utilizzi Basi Tutte Esclusivamente Hip hop Per Autocelebrarti Dire Una marea Di stronzate E luoghi comuni Oppure Per Fare Sempre Gli stessi testi Punchliner Che alla fine Possono voler dire Tutto e niente Ha ben poco peso Essere hip hop Essere hip hop A peso Nel momento in cui Prendi l'approccio Dell'hip hop Al meglio Cioè Ti Ti ispiri In qualche modo All'approccio Di tanti maestri Quali può essere Ad esempio Chaos Nel Trattare le tematiche E poi Ti crei uno stile tuo Stando attento Ad avere Dei messaggi Ben chiari Che non siano Sempre gli stessi Perché alla lunga Dimostri magari Di essere Un ottimo rapper A livello tecnico Però Un artista Non più che discreto Ed inoltre Portando la causa In modo tale Da trasmettere Allora in quel caso Benvenga Essere hip hop Se essere hip hop Diventa la copertura Per trasmettere Sempre lo stesso Messaggio Oppure Per avere La giustificazione Per Dire una marea Di cazzate Come Succede Qui a volte Nell'ecosistema Trentino Poco vale Essere hip hop Perché Che è meglio Una persona Come Un'ernia Che forse Non molti conoscono Che rappa Su basi trap Però Ha delle cose da dire L'importante L'importante In conclusione Per me Anche se posso Essere stato Un po' Ridondante Nell'esprimerlo E avere Dei concetti Di base Avere L'idea Di trasmettere Di comunicare Non è tanto L'essere hip hop Perché Può essere Migliore Uno che Rap Su basi Elettroniche Però Ha dei grandi Testi Di significato Rispetto a uno Che Rap Sulle basi Stile Boom Bap Dei 90 Dicendo però Sempre le stesse cose Oppure Stronzate Ancora peggio Lì A mio parere Sei più insulto Al rap Di uno Che non è hip hop Per nulla Questa è la mia Opinione Poi se L'essere hip hop È visto Come dare un gran valore Ai concetti Sapersi Spostare Da un argomento All'altro O comunque Non avere sempre Lo stesso messaggio In solitaria E Dare valore A una cultura Benvenga Essere hip hop C'è bisogno Di molte persone hip hop In questo senso Non hip hop In altri Nel senso Che Alcune persone Prendono L'hip hop Come la scusante Oppure Come la cultura Caratterizzata Dai precetti Che vogliono Loro E Quindi Essere hip hop In questo senso Non è molto positivo A mio parere Se si è hip hop Dando l'importanza Al trasmettere concetti Quello È un grande metodo Da perseguire C'è bisogno Di molte persone hip hop In questo senso Altrimenti Non è la sonorità Fare la differenza O non è Il saper fare freestyle Che fa la differenza Questo è come La vedo io Relativamente Non ho la disciplina hip hop Perché come mi ha detto qualcuno Posso essere uno Che non è Espertissimo Di hip hop In modo viscerale Però riguardo Alla musica Rap Poi posso essere Frainteso Contraddetto Oppure essere in errore Però Questa è la mia idea Bisogna cercare Di trasmettere Dei messaggi forti O almeno provarci Saluto molto caramente Raidon E lo ringrazio Per lo spazio Concessomi Concessomi Che Anzitutto Non è da tutti Perché Tanto di cappello Per questo tipo Di progetto Ed inoltre Mi ha sempre aiutato In ogni modo Quindi sei un franzo Ti mando un abbraccio Non vedo l'ora Di far uscire il pezzo Su tua produzione Sai che ti vedo E Ti ringrazio infinitamente Per tutto Peace